Il ragazzo soccorso prima dalla polizia e poi dal 118 è stato portato all'ospedale di Villa Sofì e sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia per una frattura cervicale, poi è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. I medici hanno indotto il coma farmacologico in attesa di vedere come reagirà. Il 17enne del quartiere Romagnolo si è tuffato alla terrazza del vecchio stabilimento di Mondello. In quel punto la profondità del mare non supera i due metri. Era in acqua con un amico quando ha deciso di raggiungere il solarium. Avrebbe poi scavalcato la ringhiera per provare l'ebbrezza di un tuffo. Da questo momento in poi le testimonianze di chi ha assistito alla scena risultano discordanti. C'è chi sostiene che si sia tuffato a testa, chi invece ha raccontato di averlo visto entrare in acqua con i piedi, a chiodo. Resta il fatto, tragico, che l'impatto con il fondale è stato violento e il ragazzo ha riportato gravi conseguenze. Adesso si spera che possa recuperare, ma la prognosi resta riservata. Le indagini sono condotte dalla polizia.